Sì, 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 sì L'astronauta italiana dell'ESA, Samantha Cristoforetti, sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale durante la spedizione 68. L'Italia torna alle Olimpiadi con una straordinaria impresa, batte la Serbia a casa sua. Baraltini se la gioca meno viciosamente, tenere, 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 vittoria, incredibile. Prova a volare, ecco Sivinio, la medaglia d'oro, 48 e 42, che miglioramento mostruoso. Gaia Sabatini, bene anche Zenoni che va a seconda e doppietta, doppietta italiana. Eccolo, il medaglietto. L'Italia davanti a tutti. Salgono a tre i nuovi siti italiani riconosciuti dall'UNESCO nel 2021. Entrano i portici di Bologna, Padova, Urbs, Picta e Montecatini. 134 edizioni di un torneo che è la storia. E Matteo Berrettini è il primo italiano che giocherà la finale. La finale dall'Erapeo Italia-Inghilterra. Gira dentro. Sì, grazie signore che ci ha dato il calcio. Mia! E un 4, dai Vito! Sono orgogliosissima di dimostrare che il Molise esiste, è meno forte. Il colpaccio della vita! E c'è il medaglio! E c'è il medaglio! E c'è il medaglio! E' un finale bellissimo! L'americano, Roma ci vengono! Sì! E' secondo! E' secondo! Pazzesco! E' un medaglio d'oro questa! E' un medaglio d'oro questa! Vittoria! Nella 20 chilometri di marcia, medaglia d'oro per Massimo Stano! Adorella Palmisano, medaglia d'oro della 20 chilometri femminile! Argento! E' d'Argento per Vanessa! Una medaglia storica! Argento, Argento! Finalmente è arrivata! Argento! Dobbiamo in craftedio con il pulato! Immaglo d'oro? Beh, possiamo! Vieni Giacos, Giacos e Kerli, Giacos e Giacos, campione olimpico, eccole qua le nostre due medagne d'oro olimpiche. San Pippo ganna 0-0-55, siamo vinciti a qualcosa di leggeario, ci siamo, siamo lì, siamo lì, con la gamba in taglia, Filippo Tonto, Filippo Tonto, Filippo Tonto, Filippo Tonto, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Finita! È finita! È finita! Carlotta Gigli, and she's broken the world record now, five medals in five events. Giulia Terzi che va a vincere la medaglia d'oro per l'Italia con il nuovo record paralimpico. Francesco Bociardo devastante per Ariola Trimi, secondo successo in questa Paralimpiade. Bebevio si conferma campionessa paralimpica del fioretto femminile. sta salendo l'onda azzurra, Ambra Sabatini davanti a tutte, Martina Caironi, Monica Contrafatto, storica tripletta. Camila Giorgi è nella storia, è la seconda italiana di sempre, vince un putti a mille. in 25-11 siamo campionesse d'Europa, campionesse d'Europa, vincata della Serbia. Finisce così! L'Italia è campione d'Europa! La bella Italia 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 è campione d'Europa! Il premio Paganini, Giuseppe Gibboni è il quarto italiano a vincerlo, il primo dopo 24 anni. Yannick Sinek, una difesa successiva di difesa di titolo. Il titolo numero 4 di una settimana settimana per Yannick Sinek. L'Italia è il dufece campione del mondo! Nicola Bartolini si laurea campione del mondo! La bella Italia è campione del mondo! La bella Italia è campione del mondo! Quindi a sempre pura passato. Lo bella Italia è riprendente! Ilvouszato vraiment l'idea perché riclicche? Ero. L'Italia è? Quindi arrivi dopo!! A tutti i libri possono fortemente Madnica! Grazie a tutti